A Macerata arriva la piscina, la realizzerà la società filarmonica sulla lunga di Villa Potenza, in quello che è stato per anni un impianto di riferimento per i maceratesi e che ora viene rilanciato. I dettagli del progetto sono ancora da definire, unica certezza è la scadenza, con segni a maggio prossimo per essere funzionante a giugno 2015. L'impianto sorgerà nell'attuale struttura polifunzionale che comprende campi in sintetico da calcetto e calciotto, ristorante e strutture per il beach volley. La notizia ufficiale è arrivata dal presidente della società filarmonica di Macerata, Alfonso Cacchiarelli. Per noi è stato il pensiero da parecchi mesi, direi da qualche anno, e come parecchi di voi già sapranno che la situazione della piscina è ferma da circa 2007. Posso dire oggi con soddisfazione, a nome del consiglio direttivo che presiedo, che sicuramente nel 2015 sarà funzionante la piscina al centro estivo. Attualmente il progetto sta prendendo in considerazione la parte sia di copertura e la parte invece non coperta. Noi siamo disponibili comunque a collaborare in questa estiva con chiunque può essere interessato, chiunque vorrà, io intendo anche il comune se vuole partecipare con noi, perché so che parecchi consiglieri hanno spesso questo desiderio di collaborare con noi. Noi, senza creare difficoltà a nessuno, diciamo solo che siamo qua, siamo pronti a dialogare con tutti, nella speranza di poter fare un qualcosa che sia importante per noi e per la città stessa.